Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, oggi voglio realizzare con voi la torta sbrisolona utilizzando il preparato che avevo trovato nella scatola san martino, vi lascio giù in info box oppure nelle schede il video in cui vi facevo vedere tutto il contenuto di quella scatola comunque questa è una torta che io non ho mai provato a realizzare e devo dire la verità non l'ho neanche mai assaggiata, è un dolce tipico mantovano e ha una caratteristica particolare anziché essere tagliata a fette si taglia a pezzi perché è molto friabile, quindi è una torta un po' particolare comunque io voglio provare perché qui c'era il preparato, c'è tutto l'occorrente, quindi vediamo che cosa succede vi dico subito quello che c'è all'interno della scatola e poi vi leggo quello che c'è scritto dietro prima di entrare nella mia cucina e provare a realizzarla intanto apriamo la scatola e vediamo che cosa c'è all'interno dunque c'è il preparato per la torta, quindi c'è questo sacchetto qui e poi ci sono delle mandorle sgusciate qua non si vedono però c'è scritto sopra che ci sono delle mandorle sgusciate e sono 60 grammi quindi cosa dobbiamo fare? Vediamo subito qui dice di accendere il forno, preparare una tortiera leggermente imburrata però io utilizzerò la carta forno perché a me non piacciono le cose troppo grasse con troppo burro quindi utilizzo la carta forno ma la ricetta originale qua sopra dice di imburrare una tortiera poi versare il preparato, aggiungere il tuorlo, il burro freddo da frigorifero tagliato a pezzetti mescolare inizialmente con una forchetta poi a mano in modo da ottenere un composto molto grumoso poi aggiungere le mandorle, amalgamarle all'impasto versare il tutto nella tortiera senza premere e cuocere per 40 minuti nel forno elettrico oppure per 30 minuti nel forno ventilato togliere la torta dal forno e servirla fredda ok, poi qui c'è anche un consiglio dice che questa torta si mantiene fragrante se conservata all'interno di una scatola di latta ok, per me è proprio una completa novità non l'ho neanche mai vista sinceramente se non in fotografia o in qualche video su youtube ma non l'ho vista dal vivo è proprio una cosa che non ho mai avuto occasione né di vedere né di assaggiare neanche quando sono stata a Mantova perché io sono stata a Mantova però sinceramente non mi era capitata l'occasione di mangiare questa torta ma direi di fermarsi con le premesse che sono già state sufficientemente lunghe andiamo subito in cucina e proviamo insieme a realizzare questa torta mi sono messa alla mia solita postazione qui ci sono tutti gli ingredienti necessari vi ricordo che questo non è un tutorial è semplicemente un video che faccio per condividere con voi un esperimento che farò nella mia cucina perché non ho mai preparato questa torta in vita mia quindi non ho nulla da insegnare semplicemente mi faceva piacere condividere con voi questa cosa e quindi insomma adesso vediamo che cosa succederà nella mia cucina io prima di tutto vado ad aprire la scatola tutti i prodotti che servono ovviamente seguirò quello che c'è scritto sulla scatola quindi la prima cosa da fare è aprire la confezione e versare il contenuto in questa terrina adesso devo dividere il tuorlo dall'albume perché non va utilizzato l'uovo intero ma soltanto il tuorlo quindi andrò a fare questa operazione intanto colgo l'occasione per far vedere a coloro che non lo sapessero come si fa a dividere il tuorlo dall'albume semplicemente io faccio in questo modo lascio il tuorlo dentro al guscio e lascio scivolare l'albume in un contenitore in questo modo qua ovviamente stando attenti a non perdere tracce di tuorlo il tuorlo è rimasto nel guscio e quindi lo vado a versare c'era anche un pochino di albume ma l'ho recuperato al volo adesso vado a mescolare un pochino e poi aggiungo il burro perché qui dicono di aggiungere burro e tuorlo a questo preparato e di mescolarlo leggermente in modo da fare un composto grumoso vediamo che cosa verrà fuori in effetti il composto rimane abbastanza grumoso sicuramente molto diverso da quello delle torte classiche poi devo aggiungere le mandorle ne lascio un pochino nel sacchetto perché poi magari vado a decorarla un pochino sulla superficie anche se qui non lo dicono però è una cosa che magari vado a fare io perché mi piace di più adesso il composto mi sembra pronto per essere versato nel tegame io utilizzo la carta forno perché mi piacciono le cose leggere però se voi volete potete cospargere il tegame di burro quindi ungere il tegame io invece preferisco non ungere niente e usare la carta forno sulla scatola c'è scritto di non premere troppo il composto ora io ho premuto quel tanto che basta per poterlo stendere magari sto sbagliando io perché come vi dicevo è una cosa che non ho mai fatto però insomma youtube secondo me è anche uno spazio per fare qualche piccolo esperimento mi viene così io non so assolutamente se sia giusto o meno perché comunque dalla foto che vedo sulla scatola sembra un pochino diverso però può darsi che poi in cottura magari assuma quella figura quella forma io comunque adesso aggiungo le mandorle che avevo lasciato da parte perché volevo comunque decorare un pochino la torta nella superficie in questo modo poi non so se ripeto se è sbagliato o meno comunque vediamo che cosa succederà adesso bisogna cuocere in forno a 180 gradi perché sulla scatola c'è scritto 180 gradi forno elettrico oppure 160 gradi forno ventilato per 40 minuti se il forno è elettrico oppure per 30 minuti se è ventilato nel mio caso è elettrico e quindi per 40 minuti a 180 gradi questo è il risultato finale io non credo che sia molto riuscito questo esperimento perché dalle foto che ho visto le immagini sono proprio diverse poi è anche una cosa che io non ho mai mangiato quindi non so neanche quale sia il sapore in ogni caso l'assaggerò può darsi che nonostante l'estetica poi abbia un sapore eccezionale quindi ragazzi mettetemi un pollice in su lo stesso per il supporto e per l'esperimento non tanto riuscito io comunque vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto io vi mando un bacio enorme